E' tutto pronto per Buongiorno Ceramica, un weekend di ceramica nelle due albissole. Cosa avete organizzato per questo fine settimana? Tantissime iniziative all'insegna della ceramica, della nostra bellissima tradizione. Quella che intorno a noi si sta svolgendo è una preview di quello che vedrete domenica. Un centinaio di artisti per il paese, tutti intenti a realizzare il proprio piatto in tema del pesce, sarà Fish Art. Questa è una delle tante manifestazioni che ci saranno perché la festa è una festa vera, diffusa in tutta Italia, in tutte le 40 città di antica tradizione ceramica. Le albissole naturalmente insieme. Unite come sempre le albissole, come in tante altre occasioni, la ceramica al centro. Sì, è bello sentire si parte non solo di una cosa che facciamo insieme, come ho mai risaputo, credo albissole sono una forza unica, ma essere al centro di un progetto, come quello dell'ICC, dell'Associazione Italiana Città della Ceramica e Buongiorno Ceramica, che è diventato anche la giornata nazionale della ceramica. Ed è bello perché in queste occasioni, come diceva Nicoletta, in questa preview di quello che sarà un weekend di tanti eventi, performance, laboratori, tutte le persone ci hanno dato una mano, unite in forza ceramica. Artisti, artigiani, appassionati, obbisti. Questo è quello che ci piace e farlo per le vie delle nostre città e nei luoghi di interesse è ancora più bello.